L'anno 2020, il giorno 10 del mese di gennaio, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento. L'Onorevole Dottoressa Lucia Azzolina, Ministra dell'Istruzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.